Salve a tutti! Oggi voglio parlare dell'IR2184. Ma che cos'è l'IR2184? È un driver integrato per il pilotaggio di mezzi ponti, però ha una particolarità, ovvero è un tipo di driver sincrono. Che cosa vuol dire? A differenza dei comuni driver a mezzi ponti che utilizzano due PWM per il pilotaggio degli attivi, quindi una PWM che comanda il MOS superiore e una PWM che comanda il MOS inferiore. Questo driver invece ha bisogno soltanto di una PWM in ingresso ed è poi lui attraverso una circuiteria interna ad andare a generare il segnale per l'accensione del MOS superiore e il segnale per l'accensione del MOS inferiore in modo appunto sincrono. Quindi quando il segnale di ingresso è alto il driver accende il MOS superiore e spegne quello inferiore, mentre quando il segnale di ingresso è basso il driver accende il MOS inferiore e spegne il MOS superiore. Quindi questo driver risulta essere davvero molto utile in quando attraverso una sola PWM si riesce a controllare il mezzo ponte e questo risulta davvero molto utile in alcune applicazioni. Ovviamente anche con gli altri driver è possibile fare questo semplicemente andando a generare un segnale negato della stessa PWM però questo circuito essendo tutto integrato ha vantaggi come ad esempio il controllo della cross conduction quindi impedisce che entrambi i MOS siano accesi contemporaneamente attraverso un controllo suo interno con la circuiteria con cui è stato progettato. Inoltre considerando il costo e le prestazioni di questo integrato credo che sia uno dei migliori esistenti sul mercato. Infatti leggendo il datasheet si apprende che questo integrato può lavorare fino a una frequenza di 300 kHz, può erogare una corrente di driving di più 1,4 A e meno 1,8 A e inoltre ha un dead time interno e fisso di 500 ns. Quello che adesso voglio fare avendone acquistati un po' è appunto andare a testare le sue prestazioni e quindi andare anche a provare il circuito che viene indicato sul datasheet. Quindi quello che adesso farò sarà andare a montare questo circuito su una breadboard e poi andare ad eseguire dei test. Quindi lo testerò a una frequenza massima di 150 kHz e andrò ad effettuare delle misurazioni con l'oscilloscopio per vedere appunto che tutto funzioni correttamente e che soprattutto i valori riportati sul datasheet siano in effetti quelli dichiarati. Inoltre, come attivi del mezzo ponte, andrò a montare questo part number di mosfet, ovvero l'IRF510 che stando a quello che ho letto sul datasheet dovrebbero essere dei mos davvero molto molto veloci. Infatti, stando a quando dichiarato, hanno prestazioni davvero molto molto simili a dei GAN. Inoltre il tempo di recupero del suo diodo di body è soltanto di 100 nanosecondi. Quindi vorrei testare questi attivi proprio perché in applicazioni ad alta frequenza sembrerebbero essere i candidati ideali. Molto bene, quindi adesso mondo il circuito sulla breadboard e poi ci rivediamo direttamente per la fase dei test. Ho montato il circuito sulla breadboard, quindi qui possiamo chiaramente vedere il driver e qui il mezzo ponte con i due mos e inoltre andrò a pilotare il driver con questo generatore di PWM. Quindi le sonde sono già in posizione e adesso andremo a vedere qualche forma d'onda sull'oscilloscopio. Ho connesso l'alimentazione al circuito ed ecco qui la prima forma d'onda, ovvero stiamo vedendo la tensione sul nodo switching. Quindi siamo a una frequenza di 150 kHz e a un duty del 50%. Quindi se io adesso vado a variare il duty, vediamo che varia anche il duty sul nodo switching. Quindi se aumento, aumenta conseguentemente anche qui. Quindi l'integrato sta funzionando correttamente. Andiamo adesso a vedere cosa succede ai segnali di gate dei due mosfet. Ho connesso le sonde ai due segnali di gate, quindi stiamo vedendo in giallo il gate alto e in blu il gate basso. E come si può vedere sono perfettamente in controfase con la presenza di quel piccolo dead time. Quindi se io adesso aumento il duty, ecco qua si vede che commutano in modo sincrono. Quindi aumentando il duty il segnale di gate alto aumenta, mentre il segnale di gate basso diminuisce. Viceversa se io diminuisco il duty avviene il perfetto opposto. Andiamo adesso a misurare il dead time. Quindi già qui si può vedere che è più o meno una divisione. E in questo momento siamo a 500 nanosecondi per divisione. Quindi è coerente con quanto scritto sul datasheet. Anche dall'altra parte, quindi il dead time del segnale alto è uguale quasi una divisione. E quindi anche qui abbiamo che è perfettamente simmetrico e uguale per i due segnali. Quindi quanto dichiarato sul datasheet è corretto. Ora invece voglio andare a vedere le prestazioni di questi MOSFET. Molto bene, in questo momento stiamo vedendo il segnale del MOS basso. E ho connesso la sonda gialla dopo la resistenza di gate. Mentre la sonda blu prima della resistenza di gate. E c'è montata una resistenza da 22 ohm. E come si può vedere sono perfettamente coincidenti. Quindi andando anche a zoomare si vede che la carica di gate di questo MOSFET è bassissima. Si carica in più o meno 150 nanosecondi. Viceversa anche la scarica è velocissima. Più o meno della stessa grandezza. Si, si scarica molto velocemente. Quindi appunto questi MOSFET sono davvero veloci e possono competere benissimo con dei gun. molto bene. Quindi abbiamo visto il funzionamento dell'IR 2184. Quindi vista la sua semplicità di utilizzo e le sue notevoli prestazioni. Credo che risulterà davvero molto utile in moltissime applicazioni. Soprattutto in applicazioni che intendo sviluppare in futuro. Molto bene quindi. Per questo video è tutto. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!